Ecco Non, 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 non. Non, 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 non Non mi vedeva perché c'era la fede davanti, enorme, no? Quindi ho fatto così per farmi vedere Lory, questa è colpa... Banniamo Lori Questa è colpa di Lori È colpa di Lori È colpa di Lori, ragazzi, banniamo Lori Banniamo Lori, subito È colpa sua se il papà mi ha visto in queste condizioni a terra In realtà è colpa di Scorpione Beh, e comunque Io stavo facendo l'esempio di Lori Come se abbassava quando li fa Ovviamente Quante figure di merda stanno i due giorni? Beh, dopo quelle che ho fatto ieri davanti alla mia figlia È davanti alla mia figlia Davanti alla mia famiglia Posso dire, ragazzi, che credo di... Credo di aver fatto abbastanza figure di merda Più di due E che sera? Ragazzi, sono peli ovunque che volano Dai, madonna, basta, regà Questo vuol dire che è il momento di staccare Che è un 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 momento di staccare